ed eccoci qua in un gameplay di quelli aggressivi direttamente a mega city terzetto artigianale marco appena espulso youtube mi dice che il 73 per cento di voi non è iscritto al canale male molto male comunque provvedete ecco c'è gioco a un voto è un voto è un voto no è qua è qua è qua non vedo nessuno a correre ma non era l'ultimo non era l'ultimo mi sembra un bobo 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 sono in due su una moto uno fatto uno qua bianco finiti bot 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 ce ne sta un altro sicuro dietro la collinetta qua dietro ce n'è un altro sicuro altri due altri due eccolo no andiamo a vedere quelli che hanno aperto eccolo eccolo si donna bravo andiamo a rompi i coglioni a quelli anch'io preferirei quelli sono mani sicuro se arò quell'arti son bot e non ci fanno niente che sono che sono qui non fanno neanche i coperti stanno coglioni ora non due non la verso mo apri 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 che licecchino l'ultimo già fatto io solleva scudi scudi so bianchi so bianchi so bianchi venga fuori 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 io ce n'ho uno qua ma aperto te lo tengo io curate mi sto curando eccolo questi sono troppo forti no sono tre ancora o io ne vedo tre sta a scendere a curasse qua dentro passi altra gente lo team no è lui è spostato sta qua sotto affanculo va quant'era forte ma vi rendete conto in treno gli eravamo fatto ammazzarlo per mezz'ora quant'era forte questo eccolo eccolo questo è torchi là quello là ma non è lì non è l'uomo donna stai continuando a avanzare donna fermate quello con la corona non è occhio eccolo là fallo venire fallo venire 32 bianco e muore muore vicinamente come meritava hai capito grazie